Ragazzi buon pomeriggio, come state? Io oggi sono un po' sbattuto perché ho un dolore alla cervicale pazzesco, quindi sto un po' KO, però stamattina ho lavorato un po' sull'appartamento sui video, foto all'appartamento che tra poco andrà online, adesso faccio delle commissioni poi vado a prendere Rosy che sta alla Fashion Week Grazie a tutti Grazie a tutti è stata comunque una giornata di serie A molto intensa, ci sarà molto da parlare quindi alle 23 su Sport Italia Poi sabato cosa andiamo a vedere invece? Ragazzi giornata di serie A finita con un Napoli a forza 4, Genova con la Sampdoria male la Lazio, la Roma 1-0 con l'Udinese, ne parliamo dopo Sport Italia Mi raccomando, intanto vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella mettere un like così vedo che ci siete e che mi sostenete e lasciate il vostro commento sotto il video